Il Consiglio Comunale di Teramo ha approvato all'unanimità il tanto atteso progetto di fattibilità tecnico-economica per la valorizzazione dell'area archeologica e recupero funzionale del Teatro Romano. Passa dunque in pratica il progetto già presentato alla cittadinanza dello studio Bellomo di Palermo, che prevede in primis la demolizione di Palazzo Adamoni e Palazzo Salvoni, con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Un momento storico per quanto riguarda il recupero del Teatro Romano, lo dico con una ragionevole enfasi, nel senso che torna per la prima volta, dopo tanti anni, un vero e proprio progetto in Consiglio Comunale, quindi di fronte alla città, il recupero pieno e funzionale del Teatro Romano. Abbiamo approvato il progetto preliminare, dando indicazioni per la redazione del definitivo e avviando, diciamo così, anche l'iter per la variante urbanistica e la posizione del vincolo preordinato all'esproprio. È un passaggio importante, che è comunque legato ad un'accelerazione che abbiamo impresso fin dal giorno successivo al nostro insediamento, perché riteniamo che il recupero pieno e funzionale del teatro sia un punto centrale per il rilancio della valorizzazione culturale, del patrimonio culturale del nostro territorio e quindi della nostra città, della nostra provincia, ma direi anche al di là dei confini provinciali. C'è stata un'approvazione all'unanimità, un buon segno, perché siamo riusciti a trasmettere la percezione che abbiamo avuto nel corso di questi mesi che questo è veramente l'ultimo treno, soprattutto rispetto agli enti finanziatori, che comunque chiedono garanzie sui tempi. La volontà dell'amministrazione e della città attraverso l'amministrazione è molto chiara. Adesso si procederà con il primo lotto funzionale, ovviamente dopo la redazione del definitivo, perché si possa recuperare in modo pieno e funzionale il teatro romano attraverso la rimozione dei due palazzi.